L'incredibile postino all'esame dell'Europa, stagione straordinaria per questa ragazza che ha iniziato a Monza e che ha costruito il gioco con pazienza, con volentà. Tre partite e tre vittorie, questa nazionale fa sognare. È una partita emozionale, siamo contenti che ha fatto il primo posto. Siamo venuti nella Germania! Saluto la mia mamma, la mia sorella, papà! Vatti saluti! Vabbè certo che ci fa sognare! Andiamo qui, andiamo a tutti! Vabbè certo che ci fa sognare! 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 Sì, speriamo di andare a piangere così, come ci crediamo? Andiamo a vincere! Andiamo, andiamo, andiamo a vincere! E sai come viene? E' il suo messaggio che stiamo regalando! E' il suo messaggio che stiamo regalando!